Leonardo Silva Revisore Allora, io sono belga, fiammingo, e quindi vi parlerò in? In italiano, sì. Allora, vent'anni fa sono entrato in quell'edificio verde che vedete qui, e che ospita il Museo delle Tecnologie Giurassiche. Il Museo delle Tecnologie Giurassiche. Sapete tutti che il Gerasico è un'era preistorica in cui il mondo era popolato dai dinosauri, no? Però questo museo non parla di dinosauri e non parla neanche di tecnologia. Parla, o fa vedere, e leggo, una scultura di un papa dentro all'occhiello di un lago, da guardare con un microscopio, un pipistrello incastrato in un blocco di piombo, e quindi invisibile, la corna di una donna inglese. E quindi è difficile spiegare il senso di tutto ciò, e non voglio neanche provarci. sta di fatto che quando esci da questo museo, dal buio di questo museo, e rientri nella luce riverberante della città di Los Angeles, sai e senti che il mondo deve essere un po' più complicato rispetto a quello che vedi intorno. la strada, le macchine, i semafori. Il museo ti ha messo in uno stato di meraviglia, che è spesso anche uno stato di dubbio. ho poi saputo che qualcuno ha scritto un libro proprio su questo museo, e lo chiama un degno erede dei gabinetti delle meraviglie del Cinquecento. Ebbene, anche il Cinquecento, era un po' difficile spiegare il senso di tutto che si vedeva nel Cinquecento. Tutte le novità, le notizie che arrivavano con le scoperte dell'America, espandevano di molto l'immaginario collettivo della gente. Ha creato una confusione generale che ha governato l'Europa per più di cento anni. E nascevano, appunto, queste stanze delle meraviglie, le underkamern, dove si raccolgeva proprio di tutto, le cose più bizzarre, vere e anche inventate. E mentre tante di queste collezioni alimentavano il gusto barocco per lo straordinario e lo smisurato, altre diventavano strumenti per lo studio. In Italia, e per questo mi piace parlare di tutto ciò in italiano, veramente, in Italia, tra Leonardo e Galileo, il bolognese Ulisse Olivandri aveva uno scopo ben preciso con la sua collezione. Voleva sistematizzare e ricomporre il sapere tramite una ricostruzione microcosmica del macrocosmo. A un certo punto scrive, con un certo orgoglio, oggi nel mio microcosmo si possono vedere il numero di 18.000 cose diverse, veramente esemplari delle specie prodotte dal grande Idio. Infatti, per tanto tempo ricondurre tutto a un unico creatore era l'unico modo di dare qualche coerenza a questo caos dei meraviglie. Ma pian piano le meraviglie dovevano lasciare spazio ai dubbi su come fosse stato descritto il mondo nella Bibbia e nei testi classici. Androvandi vedeva la necessità di cambiare e di ricomporre il sapere. Il suo primo lavoro è stato di dividere i suoi 18.000 esemplari in naturalia e in artificialia. Quindi cosa è fatto dall'uomo? No. Cosa è fatta dalla natura e cosa è fatta dall'uomo. E questo può sembrare banale, no? Ma all'epoca era un approccio radicalmente nuovo alla realtà. Un approccio che è poi portato al pensiero moderno in cui la divisione tra natura e uomo è poi diventata la divisione tra, da una parte, le scienze e dall'altra parte l'arte, la religione, la politica, eccetera. Io sono un scienziato per il mondo, sono un climatologo e mi è sempre apparso utile vedere i cambiamenti climatici di oggi nel contesto dei cambiamenti avvenuti in tutta la storia della Terra. Una storia lunga 4,5 miliardi di anni. Ma guardiamo solo gli ultimi 600 milioni di anni da quando la vita è emigrata dall'oceano alla terraferma. E dai reperti fossili sappiamo che ci sono state queste grandi estinzioni di massa causate da cataclismi naturali, impatti meteoritici, attività vulcanica e poi i cambiamenti climatici che ne erano la conseguenza. Queste estinzioni di massa, queste strade di fossili poi dividono la preistoria in ere geologiche. Il giurassico, no? Vi ricordate il giurassico? Andava da 200 a 150 milioni di anni fa. I primi hominidi sono entrati in scena solo 7 milioni di anni fa e l'homo sapiens è a malapena visibile su questo quadrante. Quindi faccio un reset dell'orologio e riparto 200 mila anni fa quando sapiens entra in scena. ci sono poi le diverse rivoluzioni umane, quella cognitiva, poi quella agricola e quella industriale. Ed eccoci subito arrivati agli ultimi 200 anni. Quelli moderni, quelli cosiddetto illuminati. dove troviamo musica. Haydn. È una tal quantità di altra cosa che devo leggervelo. Siamo un miliardo, tanto per cominciare. C'è il rumore delle macchine a vapore, macchine che consentono di fare macchine ancora più grandi. Il colonialismo, l'avvurtumento dell'uomo e i primi saccheggi del pianeta. Ci sono le rivolte sociali, bombe e fertilizzante, la grande guerra e l'esplosione demografica a livello mondiale. Siamo 2 miliardi. Arrivano gli anni 30 con New York, che compete con Londra e Berlino. Il primo dispiegamento di armi di distruzione di massa, seguito dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Il petrolio, cioè materiale per la plastica, carburante per le automobili, città tentacolari. Siamo 3 miliardi, c'è domanda e offerta, produzione e consumo di massa. Il glorioso anni 60, un'esplosione di creatività. La società dell'uso e getta. Il primo trapianto di cuore, plastica ancora, plastica dappertutto. Pesticidi e organismi geneticamente modificati. Il freon e il buco della zona. Il viaggio nello spazio. Il personal computer, Pac-Man, Super Mario, CNN, MTV, Chernobyl, Est e Ovest, Nord e Sud, la Cina in mezzo, l'Africa dimenticata, internet, i mercati finanziari, la ricerca della sostenibilità, miniere aperto, la biodiversità, foresta bruciata, reti globali, il riscaldamento globale, il terrorismo globale, 20 miliardi di polli, macelli automatici, trapianti di testa, la vita virtuale. Siamo più di 7 miliardi e della disuguaglianza tra questa donna e questa qua, che scatena conflitto dopo conflitto, emergenza dopo emergenza, disastro dopo disastro, guerra dopo… No, scusate. Forse… Ho forse esagerato un po', però è chiaro che il nostro fare su questo pianeta, oramai alla forza pari a quello dei grandi cataclismi naturali, della preistoria. Adesso siamo noi la causa del cambiamento climatico. E anche senza l'uso delle bombe atomiche, facciamo scomparire specie animali e vegetali a un ritmo pari a quello delle grandi estinzioni di massa. E per questo fa molto senza chiamare i nostri tempi l'antropocene, cioè l'era dell'antropos, dell'uomo. Un'era che potrebbe essere ricordato fra un milione di anni da uno strato di fossili, di varie creature misti con cemento, radioattività e plastica. Beh, sapete, forse non ho esagerato più di tanto, perché tutto quello che ha fatto passare in rassegna si trova su internet, su YouTube. e tanti filosofi, studiosi della nostra cultura, hanno chiamato proprio YouTube una wunderkammer della nostra epoca. Infatti YouTube fa vedere di tutto, rispecchia il caos, la confusione in cui ci troviamo, no? Un vero pasticcio degno del Cinquecento. E forse ci troviamo ancora nello stesso pasticcio e non siamo mai stati moderni, come dice qualcuno. Ovviamente ci sono delle differenze tra il Cinquecento e adesso. Mentre allora le novità venivano dal nulla, no? Da continenti sconosciuti, adesso vengono progettate da un apparato scientifico tecnologico per un consumo di massa. E mentre allora le novità erano delle vere meraviglie, adesso le novità non meravigliano più. Perché si soppiantano uno dopo l'altro. E ci siamo abituati oramai che tutto è possibile. Mancanza di meraviglia significa mancanza di dubbio. Ed è senso critico su come operiamo su questo pianeta. e rimaniamo incastrati in questo modello consumistico che è sconnesso da ogni tipo di valore, tranne quello del denaro, che appiattisce la nostra cultura umana e che può portare anche alla scomparsa della nostra civilizzazione, se non ad un'altra estinzione di massa. Guarda, io non posso cambiare il mondo, ma credo che il mondo possa essere cambiato. E per questo ho creato una stanza delle meraviglie. Vi ricordate il Museum of Jurassic Technology? Ebbene, io ho fondato il Museum of Anthropocene Technology. Un museo che parla dell'antropocene e anche un po' di tecnologie. per esempio fa vedere un'opera che mette in luce una lampada a incandescenza. Una foto stampata con l'inquinamento atmosferico stesso che la foto fa vedere. Un paio di occhiali. E qui, anche qui, è difficile spiegare tutto quello che si vede. Ma adesso voglio provarci. Questi occhiali. Beh, sono occhiali come questi qui. Un oggetto molto semplice, no? Fatto da plastica e vetro. Ma qui c'è scritto qualcosa. Che adesso non riesco a vedere perché ci vogliono gli occhiali, no? Ma so che c'è scritto Made in China. E questo fa esplodere questo oggetto in una cosa molto più complessa. Sì, sarà disegnato qui in Italia. Ma vedo gli operai cinesi che l'hanno prodotto inquinando l'aria e le acque della loro città. Vedo le guerre nel Medio Oriente per il petrolio. Materia prima per la plastica. Poi vedo le navi che vanno dal Medio Oriente in Cina con il petrolio. Poi quelle che vanno da Cina in Italia con gli occhiali. E poi perché è fatto in Cina? Perché la mano d'opera costa di meno, sì. Allora, siamo noi che guadagniamo troppo o sono loro che guadagnano troppo poco? E vedete, tutto ciò fa di questo oggetto una cosa, una meraviglia che non posso più buttare facilmente via. Anzi, mi viene di metterlo su un piedistallo. Insomma, questo museo, il mat, vuole essere una macchina per guardare con lo scopo di ritrovare la meraviglia e il dubbio. Per far vedere come tutto è un po' più complesso rispetto a quello che ci fa credere il modello consumistico. vuole sistemare questo nostro caos andando oltre la divisione della modernità tra natura e società, tra scienze e arte fatti valori. e facendo così si spera di scoprire nuovi modi di vedere e di vivere il mondo, modi che possano essere la base per affrontare i nostri grandi problemi collettivi. voglio finire con un ulteriore pensiero. E' chiaro che un solo museo rischia di avere poco impatto, no? Soprattutto che si trova all'Avvieno Monbello, qui vicino all'altro lago. Ma cosa succederebbe se ci fosse una rete di tali musei? Una rete capillare, un po' come le nostre chiese. Non ci è bastato solo San Pietro a Roma per diffondere la dottrina della chiesa, no? Ci sono volute chiese, capelle e pievi dappertutto. E non basta solo TED per diffondere le idee. Ci vogliono tutte quelle TEDx. Allora, oltre al Matt, stiamo anche pensando già a una specie di Matt X. E di questo stavo parlando con il mio amico Fabio qualche mese fa. E lui diceva, beh, bisogna parlare con Francesco. Francesco chi? Papa Francesco. Addirittura Papa Francesco. Ma vuol dire usare le chiese come musei? Infatti, credo che sia bello per tutti di entrare in una chiesa. Dalla luce riverberante della città, dentro quel spazio buio e silenzioso dove la frenesia si ferma. Ma oltre a poter salutare il Dio Padre e i suoi santi, se volete, o riflettere sulla vita dopo la morte, perché non potersi fermare davanti ad un'opera, una meraviglia che ci fa riflettere sulla vita di oggi? Perché non dedicare un altare alla nostra casa comune, come lo stesso Papa Francesco chiama questo insolubile intreccio tra natura e uomo? Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.